Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Eccoci nello spazio riservato a come imparare delle canzoni semplici da suonare nel pianoforte. Oggi vediamo un brano di Erma Almeida con Elisa che è Piccola Anima. Cantare in libertà Bene ragazzi, questa canzone si compone all'inizio di 5 accordi che sono Mi minore, quindi se questo è Do dove ci sono i due tasti neri, Re Mi. Mi Sol Si forma il Mi minore, poi avremo proprio il Do maggiore, Do Mi Sol, Poi andando indietro, Do Si La Sol, Sol Si Re che forma il Sol maggiore, poi avremo successivamente il Re maggiore, quindi se questo è Do, Re Fa diesis La forma il Re maggiore, ed infine il Si minore, quindi questo è Do, Si Re Fa diesis, forma il Si minore. Vi premetto già che questa canzone è in tre quarti, che cosa significa? Che anziché solitamente le canzoni sono in quattro quarti, quelle almeno la maggior parte, quindi 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, questa canzone si divide in tre tempi, diciamo tre quarti, che sono 1, 2, 3, 1, 2, 3, e quindi la dobbiamo pensare in tre, e sarà così. Piccola anima, che fuggi come se. Questo è un esempio, e noi la possiamo accompagnare anche in questo modo. Piccola anima, che fuggi come se, fossi un angelo, Do spaventato morte. E poi riprende la strofa tale e quale, e alla fine prima metterà Si minore, e poi Mi minore. Vi faccio ascoltare. Qualcuno è qui per te, se guardi bene ce l'hai di fronte, Fuggi anche lui per non dover scappare, Se guardi bene ti sto di fronte, Si minore, e poi Se parli piano ti sento forte, E arriviamo qui al ritornello, che avrà più o meno sempre gli stessi accordi, più un accordo nuovo che è il Fa maggiore. Quindi questo è Do, Re, Mi, Fa, Fa, La, Do, forma il Fa maggiore, e farà così. Quello che voglio io da te Non sarà facile spiegare Non so nemmeno dove e perché Hai perso le parole Ma se tu vai via, Fa maggiore, Porti i miei occhi con te Questa è la strofa e il ritornello, Questa è la struttura degli accordi, Poi c'è una parte che è il bridge, Dove mette un accordo ogni battuta. Significa che mette ogni tre battute, Quindi ogni tre movimenti, 1, 2, 3, 1, 2, 3, Sul primo movimento un accordo. Vi faccio ascoltare. Camminare fa passare ogni tristezza Ti va di passeggiare insieme i meriti del mondo E ogni sua bellezza Dicono che non c'è niente di più fragile Di una promessa Ed io non te ne farò nemmeno la E poi di nuovo Fa la parte strumentale che con gli accordi del ritornello E la canzone si ripete sempre allo stesso modo Bene anche questa era una canzone abbastanza semplice da suonare al pianoforte Io come sempre vi lascio in descrizione il link su dove trovare il testo con gli accordi Poi due link dedicati a come imparare gli accordi al pianoforte Ed in più la diteggiatura per entrambe le mani Ciao, alla prossima! Grazie